Beh, molto difficile da un lato, perché la stade è in salita, molto facile dall'altro perché una città ridotta peggio di così in Italia è difficile trovare, ma non lo dico io, lo dico, non hanno detto tutti i candidati del centro-silistro che sono combattuti ferocemente negli ultimi mesi, proprio sul concetto che morda in una città disastrata. Dillo un po' largo che si veda dietro. Sì, sì, sì. Ci sono dei punti sui quali lei assolutamente non transigerà nella sua campagna elettorale? Arrivata dal centro storico, per esempio, so che è una delle cose... Beh, un po' come diceva Bartoli, qui è tutto da rifare, dall'urbanistica al declino del centro storico, al commercio, all'emigrazione, la sicurezza è un disastro, basta guardare il numero astronomico delle case svalicciate a Modena e dell'allarme sociale sulla sicurezza, il declino economico, con le scelte disastrose come quelle dei chioschi, la distruzione del parco che ha comportato l'intervento dell'amministratura, poi anche una deriva dal punto di vista dei valori di questa città, portata avanti anche da parti della sinistra che lavora per scardinare questi valori. Un'ultima domanda, manca ancora un mese circa la presentazione, secondo lei una riunificazione della sinistra, della destra è possibile? Parliamo della Modena moderata, parliamo del centro-destra, parliamo di tutti coloro che dopo 70 anni, giustamente come in tutti i paesi democratici e in tutte le realtà di tutto il mondo vorrebbero anche cambiamento.